Gentili telespettatori buona giornata. Meteo scatta l'allerta. Ci sono regioni che saranno diciamo così nelle prossime ore sotto una pressione meteorologica notevole. Scatta l'allerta meteo. Dopo il caldo pazzesco che ha accompagnato le ultime settimane con temperature asfissianti arriva il maltempo e questa volta su buona parte del paese. Le giornate da tenere d'occhio sono quelle di oggi, domenica 14 agosto, quella di domani lunedì 15 agosto. Il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile già nei giorni scorsi aveva valutato la necessità di indire l'allerta gialla per almeno 10 regioni su tutto il territorio nazionale. Si tratta della Campania, del Lazio, della Calabria, della Puglia, della Basilicata, del Molise, dell'Abruzzo e di territori isolati di Toscana, Sardegna e Sicilia. A quanto pare i temporali saranno molto intensi e a giudicare da quello che è successo in Calabria e in Sicilia negli ultimi tempi non c'è da star tranquilli. Si attendono temporali con fortissime grandinate e con raffiche di vento molto pesanti. La speranza è che l'allerta non venga portata a livello arancione o rosso nei prossimi giorni. I temporali con maggiore intensità sono stati nelle zone montuose e nelle zone interne, una circostanza che potrebbe mettere in discussione la tenuta del quadro idrogeologico come già avvenuto in qualche isola minore della Sicilia. quindi questo è quello che prossimamente potrebbe succedere. Quindi forti temporali, forti grandinate e vento, allerta gialla in dieci regioni. È l'estremizzazione del clima. Come dicono i meteorologi, si passa dal caldo che non va più via a 40 gradi, che produce anche un'energia sul mare eccetera eccetera, porta poi a un maltempo che fa i disastri, perché c'è questa estremizzazione del clima. purtroppo si va verso questo, i disastri che l'uomo ha fatto sul clima, i nodi stanno venendo al pettine, anche se molti sminuiscono il problema, il problema è molto ma molto serio, molto ma serio. Ma volevo poi raccontarvi di altre notizie, c'è anche il piano del governo per i termosifoni a 19 gradi. Si parla di maltempo, parliamo anche di gas. Il provvedimento, assicurano le fonti, arriverà sicuramente prima delle elezioni anticipate del 25 settembre e fa parte dell'accordo raggiunto il 26 luglio scorso al Consiglio europeo per limitare i consumi energetici per far fronte a un'eventuale interruzione delle forniture di gas da parte della Russia. Il governo è al lavoro per presentare entro l'inizio di settembre un piano con una proposta di riduzione dei consumi energetici. Un provvedimento, a quanto si apprende, che punta su moderate riduzioni termiche delle temperature nelle abitazioni, negli uffici pubblici ed un ricorso maggiore alle fonti di energia rinnovabili. Il testo, assicurano le fonti, arriverà sicuramente prima delle elezioni anticipate politiche nazionali del 25 settembre e viene considerato una delle eredità che l'esecutivo guidato da Mario Draghi lascerà al prossimo governo. Il provvedimento arriva a seguito dell'accordo raggiunto il 26 luglio scorso al Consiglio europeo per limitare i consumi energetici per far fronte a un'eventuale interruzione delle forniture di gas da parte della Russia, ovvero in conseguenza del problema gas scatenato nel mesi scorsi. Oggi il prezzo dei contratti sul gas al TRF di Amsterdam sono ancora una volta sopra i 200 euro al megawatt ora, a 207 euro, nei giorni scorsi ha toccato anche quota 210 euro al megawatt ora. Secondo l'intesa siglata a Bruxelles, l'Italia si impegna a risparmiare il 7% rispetto alla media annua dei consumi degli ultimi cinque anni. Diversi ministeri sono al lavoro per mettere a punto il piano che in caso di scenari di maggiore emergenza nell'approvvigionamento energetico a inizio settembre potrebbe anche essere accompagnato da un passaggio del Premier Draghi in Parlamento per riferire in aula. Il ministro della Transizione Energetica Roberto Cingolani ha presentato le linee guida alla base del piano. Riduzione di un grado della temperatura nelle abitazioni private, negli uffici pubblici e taglio di un'ora nella durata di esercizio degli impianti, ovvero massimo 19 gradi in inverno e non meno di 27 in estate. Se il gas si mantenesse su una media di 205 euro al megawatt ora, questa misura potrebbe portare ad un risparmio di 2,5 miliardi di metri cubi di gas. Ma l'Italia ha bisogno di rimpiazzare 30 miliardi di gas provenienti dalla Russia. La maggior parte, 25 miliardi, derivano da accordi stipulati in questi mesi con altri paesi, in particolare l'Africa. La riduzione di gas 5 miliardi sarà compensata da nuove rinnovabili e da misure di risparmio molto leggere, soprattutto di tipo termico, specifica il ministro Cingolani. Accordi che includono anche il ricorso limitato nel tempo, forniture di gas naturale liquefatto, da trattare anche con due nuovi rigassificatori mobili. Il piano poggia anche sulla capacità dell'Italia di stoccare gas da utilizzare in vista di possibili emergenze nel corso dell'inverno, per non dover essere costretti a misure che impattino soprattutto sulle filiere produttive. Al momento lo stoccaggio è al 75%, l'obiettivo del governo è arrivare al 90% a fine ottobre, per poi rendersi indipendenti dal gas russo nel corso del 2024. Misure simili a quelle ipotizzate in queste ore anche da altri paesi europei. La Germania rimiterà il riscaldamento negli uffici pubblici durante l'inverno a 19 gradi, mentre a Vienna si avvia a risparmiare sull'illuminazione pubblica, comprese le iconiche luminarie natalizie. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi auguro buon proseguimento di giornata, ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti. Grazie a tutti e arrivederci. A presto.